Grazie a tutti, è bello cantare per voi, ma quanto è bello cantare per voi. Nasce un'energia nuova, quasi umena, quasi gitana, quasi romana, un'energia speciale. Grazie. Ma perché ti vesti di giallo? Una volta ti vestiti di bianco. Questa passeggiata ti piace? Benvenuta a Bucharest. Stai comoda? Posso buttarle via? Posso buttarle via? No, 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 lasciami qui. Non le punto io. Allora te ne metto la manetta. Allora, se vuoi fare un favore. Grazie. È bene. Hai cantato bene prima, eh? Ogni tanto io, solo ogni tanto. Prometti bene. Quando solo, che c'è un po' più attento. C'è una carriera assicurata. Oggi, te ne sei a porta? Sì, veramente, hai mai pensato di fare cantante? Ci comincio a pensare da questa sera, ok? Bene, io direi di sì, eh. No, 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 no. Ciao! Romina Auer! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti 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 Oh yeah Grazie a tutti 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 Here E Back E Grazie a tutti 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 Grazie a tutti